Il destino ha voluto che vivessero separate dall'età di 13 anni, una in Molise, l'altra in Argentina, ma Edda e Rita Trivisonno, quel legame unico che c'è tra sorelle e gemelle, lo hanno sempre conservato dentro. Sono passati 52 anni in occasione del loro compleanno. I figli di Edda, Vincenzo, Nella e Stefania, hanno organizzato una sorpresa di Natale e fatto arrivare da Rosario la zia Rita, che ha potuto riabbracciare la sorella dopo tanti anni, festeggiando insieme il loro 67esimo compleanno. Un'emozione grandissima per entrambe, che si sono dovute separare da piccole. Mia madre aveva mio padre malato, era una famiglia numerosa, e mia zia ha pensato di prendersi uno di noi per sollevare un po' la situazione familiare. Poi è capitato che mio padre è morto e si è presentata l'occasione di spostarsi in Argentina, dove già era emigrato mio fratello, e quindi loro sono partiti tutti quanti. Però mia zia non ha voluto che andassi e ha fatto in modo che rimanessi io in Italia, a fare le compagnie. Dopo anni in cui le comunicazioni sono state affidate alle tecnologie con Skype e Facebook, le due sorelle si sono riabbracciate a Termoli, dove ora vive Edda. Rita ha temporaneamente lasciato il marito, le figlie e i nipoti a Rosario, per fare 10.000 chilometri e poter rincontrare ancora la sorella. Mi è sembrato comunque un sogno, un sogno veramente, adesso stesso mi sembra così, perché non ci riesco a capire ancora tutta quella festa, questa bella sorpresa che mi trovo tra di loro. Dall'Argentina Rita ha portato a Edda un dono, una collana con una medaglia da dividere in due e con inciso i loro nomi. Hanno staccato le due parti, le hanno indossate tra i brindisi e gli auguri dei familiari. La complicità è quella di sempre, che non ha risentito della distanza. È bastato guardarsi negli occhi e con un guizzo di nostalgia, rivivere il passato e guardare al futuro. Ora hanno un mese da trascorrere insieme, a parlare, a scambiarsi confidenze, a darsi consigli, proprio come fanno due sorelle. Allora è vero che tra i gemelli c'è un legame? Proprio di sì, penso proprio di sì, perché è una cosa che mi dicevano sempre, ma io non l'avevo mai provata. Dovevo arrivare a questa età per sentire una cosa del genere.